salve a tutti facciamo un piccolo recap giornaliero delle posizioni aperte e un piccolo esperimento questo perché la prima volta che faccio una cosa del genere spero che sia gradito cercheremo poi di migliorarlo allora iniziamo con ger 40 con ger 40 io ho una posizione aperta sui 16.000 long che ho lasciato sebbene il prezzo sia sceso perché ho accompagnato anche la discesa ho già fatto due short che ho chiuso con profitto ho aperto un altro short adesso vi faccio vedere sui 15 mila e 800 andiamo un po analizzarlo su settimanale su settimana è evidente che sia una fase rialzista che iniziata a ottobre del 2022 dopo un periodo di ribasso frase rialzista che in questo momento sul giornaliero si è tradotta però in un laterale che potrebbe essere di continuazione di trend e il prezzo si sta dirigendo verso la parte bassa di questo laterale sui 15 mila e 5 15 mila e 6 sui grandi inizioni per scegliere sul mercato e di servizi dell'anno si sta arrivando per il prezzo e che si tratti di un flessione dovuto anche al periodo agostano che possa diciamo far essere un'ausigenazione per un settembre può che riparta fino a dicembre verso i massimi con un obiettivo che a questo punto sarebbe sui 16.500 quindi qua sopra quindi sul abbiamo rotto il POC vedete abbiamo rotto il POC che significativamente è sui 15.800 stamattina vi dicevo l'importante infatti è superare i 15.800 anche oggi ha fatto un terzo tentativo di superare i 15.800 finito mesivamente tanto che io poi qua ho aperto uno short cercando di accompagnare il prezzo fino a 15.600 15.500 dove spero possa ritornare long sotto 15.400 mi dovrò rassegnare diciamo magari aspettare un ritraccio per poi chiudere la posizione long sperando di limitare la perdita quindi la mia idea è quindi un prezzo che tiene aria 15.400 15.500 e ritorna sui 16.000 e 4 il se andiamo a vederlo sul quattro ore vedete chiaramente questa resistenza sui 15.800 sui 30 minuti stamattina è andato proprio a sbattere per l'ennesima volta su quest'area sui 15.800 per poi tornare di nuovo giù ha cercato un po' di reagire qua per poi tornare di nuovo giù a questo punto sembra che non riesca a recuperare i 15.700 mi aspetterei ormai il test dei 15.600 con quest'area qua vediamo qua dove se reagirà sui 15.600 o sui 15.500 ormai il trend è negativo non credo che possa cambiare domani quindi ormai mi aspetto un retest di quest'area la mia posizione quindi sui 15.800 in in short mi ha preso un po' di discesa qua e poi un altro po' di discesa qua così ho già limitato diciamo la mia perdita sul sul ten sul trade a 16.000 adesso vediamo un pochettino come potrà reagire quindi solo un prezzo sottra il 15.800 come vi dicevo stamattina che faccia un lavoro di di questo tipo cioè vada a farmi una cosa di questo tipo cioè da patata patata usate petta oia vediamo poi aggiustarlo momento adesso lo aggiustiamo ok allora solo una cosa di questo tipo mi potrà portare a rottura del 15.800 retest e rientro poi long ok e rientro poi long solo in questa maniera posso ragionare finché non rompe questa area non vi consiglierei di andare long altra posizione aperta eur chf che sta andando bene e che ho aperto diciamo qui in quest'area qui adesso sta andando bene e ho messo ormai a breakeven il mio target è qua sotto su quest'area di domanda sui 0.95 o 264 adesso dovrebbe andare spero che vada a target comunque siamo già a breakeven mentre alt e nel ZD si stava girando negativamente però ho avuto un bel recupero oggi quindi vedete il mio stop in realtà era più in basso ormai l'ho accorciato in virtù di questa reazione adesso bisogna capire se qui su quest'area di supply torna indietro e allora io mi chiuderò la posizione con una perdita molto minima oppure se diciamo spara in alto va avanti la tenuta di 1,80 per me potrebbe essere basilare la perdita di 1,80 cioè se 1,80 non mi fa da pavimento mi potrebbe portare a chiudere la posizione con una perdita inferiore e basta per oggi abbiamo visto queste tre operazioni che ho aperto spero che questo piccolo esperimento che sia piaciuto io non metto dei segnali metto sempre delle idee che poi vi invito a valutare senza dirvi se ho aperto o meno la posizione proprio perché voglio che voi abbiate la mente libera e non copiate quello che faccio io semplicemente dovreste ragionare con la vostra testa io vi porto alla vostra attenzione dei possibili occasioni di trading e poi dovete essere voi a ragionarci sopra a vedere se secondo voi sono diciamo percorribili o meno sto tentando la challenge con royal con the founded trader a volte vi lascio anche il link per poter essere iscrivervi a questo approppo che vi da quindi in sostanza la possibilità se dimostrate di avere alcune attitudini quindi avere un 8 per cento e poi un 5 per cento di profitto di avere un account anche da che va dai 10 dai 5 mila ai 400 mila euro a seconda poi dell'iscrizione che ha fatte ci riaggiorniamo i prossimi giorni e una buona serata a tutti e arrivederci ci vediamo alla prossima